Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Un video veramente Perché lo dici? Cazzo ehi ma ho detto metti il coso Va beh starà per la prossima volta Dai Troppo Ok spero in questo video vi sia conosciuto Benvenuti in questo nuovo video Black Ops 3 Multiplayer Io contro Jacopo Solo cecchino Uomo a terra Basta Non è solo cecchino poi No c'è anche la tarati Mi son fatto male col danno a capisci Bersaglio a terra Mi sta simpaticissimo questo mino Mi sta veramente simpatico Il gioco costa tanto La grafica fa schifo perché L'ho dovuta abbassare E per di più Jacopo Ha la connessione schifosa Dato che è stato Dato a terra Che ho stato E fa missione a te se? No Sparito Sparito proprio Ok voi direte ma cosa ci fate con l'ancera? Esattamente questo ci facciamo con l'ancera Esattamente questo Non esagererai un pochino Bellavello Ho sprecato il tono Che devo fosse il C4 È illegale il C4 Infatti Che devo fosse il C4 Che mi hai tirato Flashbang Venga io non ho mai giocato ad advanced warfare e titanfall quindi mi trovo un po spettato no cazzo ha un rpg nell'occhio non scopo si non me la direi prendimi è un pc d'arrivo dura pochissimo dove non salto mi riesce a serrati il tomahawk che palle ste cazzo di flashbang e ti prendevo dov'eri fatto lo scattino super veloce cazzo allora è utile abbastanza perché tu ha girato infatti vedevo le sue orme però non riuscivo a capire dov'eri infatti te però sei un pezzentone e lui le storie tese direbbe che tu sei un pezzentone che sei gucci boy direi che ti piacebbe esserlo però non c'è paragonico il quarto cecchino quella merda è il lusso guardala guardala si si eh già comunque mi piace questo cecchino mi piace più quell'altro adesso basta giocare in pieno uccisione confermata cazzo ma proprio in pieno mi hai preso cioè sciacallo per è sciacallo infatti ho visto che hai lasciato non c'è niente lag è il momento ho attivato la velocità ma hai shultato prima di iniziarla l'ho anche sprecata cazzo le flashbang come le odio cazzo ma frizzato cosa fa frizzato lo vedete ogni tanto ti va ti scatta no ti fa colpire lo scattino ma fatto quello ma avresti ucciso uguale però overdrive pronto a far danno no è lo scattino bastardo ti do colpi uccisione confermata e questa è la peggiore uccisione non posso fare il tavolo con il mio tirami quello l'ho già tirato ma se io ti puoi tirare il tavolo costa gli azzi non siamo sul corso alle armi per corso ma se ti puoi tirare il tuo tavolo cosa posso riprendere si basta andarci sopra non è preciso come quell'altro no per nulla poi vedi dal video come non era preciso che l'altro fa un rumore incredibile condizioni interrotte aspetta c'è l'altro che ti invalare i ganglianterni atto si credo si credo anche di no questo è cadavere dai dai mamma mia dai citti che vinto assurdo ti svuato fuori con lanciaranti e avevi lo scatto e avevi lo scatto ci ha messo la co g ci ha messo quella no non è l'acqua cioè non esiste l'acqua è quello un attimo è lì un attimo più potenziale ma fa un casino che le sto vivendo gli spazi guarda come cazzo hai fatto ti giuro che sa che sapevo che ce l'avrei fatta lo sapevo che ce l'avrei fatta bellissimo come cazzo hai sparato cazzo 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 non lo usi ma poi fai da l'altra parte fai da l'altra parte, se no mi uccidi lì preso compugno è la migliore quando mi vieni così vicino l'ho fatta prendere per evitare questa overdrive pronto a far danno ma ce l'ha anche te rpg ostile rpg occhio rpg occhio rpg 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 rrada rpg r 외 Superior asco me ok, sono fermo con il suo interrotto si, comunque se lo ha tirato come dimmelo ma hai ripresa la connessione no? eh vabbè quando mi vedi nooo eri lì? è arrivato tutto fiero BOOM non me lo puoi dire così è arrivato lì tutto fiero no? sai preciso e qua fammi l'applaudi per piacere eeeh col giramento in salto non so te ma io tipo 80 tomo vorrei farci per la mano ti salva tu dentro screenshot dopo semmai Jacopo facciamola con quelli che hanno il ritorno al futuro c'è una classe che può tornare indietro nel tempo ma c'è il tasto che ne spari tre insieme? nooo perché quello che ne spari tre insieme è come prova a cliccare il mouse tre volte Jacopo ti spara ma ti ricarica se avessi una mitragliatrice ti sparerei tre colpi e basta connessione interrotta che palle ok forse è ripreso poi se no ma troppo non sono sti passati a 300 all'ora grazie non è ma così mi copie però come che può inclinare l'arma di 3 centimetri? Prima a te dicevi che si può inclinare l'arma in 3 centimetri Ah, maledemelo R.P.C. No! Umiliazione Guardala! No! L'ho saltata a prescindere Dai, era bellissimo Perché l'ho vista in tempo reale Troppo bene Ma tu chi ti credi di essere? Oh, di quanto Stava laggando in una mania incredibile ma ce la farò Iacobo, tu non sai come stava laggando Non lo puoi dire così però Vabbè Fare il cazzo nel nascondino Facendo il cazzo nel nascondino a me Che f***a Che f***a Che f***a Che f***a Headshot Madonna Questo qua è stata bellissima L'hai rivista? Sì Uomo a terra Devo dire che T'ho ucciso grazie al lagg Sì? Sì Dopo non arrivate nel video Ultimi secondi Sfruttatevi 19-19 19-19 No, sto laggando No, ti prego C'è anche te nel mezzo Dove sei? Nel mezzo della mappa Vieni Arrivando Connessione interro Ringrazio il lagg Ringrazio il lagg Ringrazio C'hanno fatto il cuore Guardala Eliminato Non l'hai vista? Sì Dal dietro Ti correvi nel nulla Ok Non è stato il miglior gameplay di sempre Ma spero vi sia piaciuto Jacopo saluta Ciao a tutti Ciao Iscrivetevi Iscrivetevi Iscrivetevi